Negli ultimi anni il mondo delle birre soprattutto i birrifici artigianali hanno dato maggiore importanza a quello che è l'etichettatura, ovvero come trasmettere tramite l'etichetta il valore aggiunto del prodotto. In primis l'analisi dell'etichetta è stato l'impatto visivo quindi come il designer è riuscito a trasmettere i valori della birra quindi tramite i colori, le nobilitazioni ma ovviamente i materiali quindi l'effetto comunicativo che una carta naturale riesce a trasmettere e quindi emozionare il nostro consumatore. Ovviamente anche l'utilizzo dei colori, la vivacità e la grafica cattivante hanno dato più importanza all'aspetto visivo e all'occhio e all'attrazione e quindi anche di immedesimarsi noi come consumatori. Grazie 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 Grazie